Le operazioni di spegnimento sono continuate fino alla tarda mattinata di oggi e per domare le fiamme altissime si sono dovute alternare diverse squadre dei vigili del fuoco di Barletta. Andria, ore 23 circa di ieri, un piazzale situato tra via da villa e la strada provinciale per Biceglie, si levano altissime le fiamme di un incendio scoppiato per cause in corso di accertamento, a rendere difficile il lavoro dei pompieri, il fatto che a prendere fuoco sia stato un deposito di pedane, una quantità enorme di legna che non accennava a dare tregua a chi doveva tentare di arginare la potenza del fuoco. E in molti si sono assiepati tra via Biceglie e la tangenziale che guarda proprio a quel piazzale e da cui molti hanno voluto seguire l'evolversi dell'evento che per fortuna non ha avuto conseguenze drammatiche ma solo danni materiali. Se le fiamme hanno regalato uno spettacolo di fuoco cui molti hanno voluto assistere tanto da indurre la polizia municipale ad allontanare i troppi curiosi che hanno congestionato il traffico, è stamattina che si è potuto vedere quanti e quali danni ha prodotto questo incendio. Il calore è stato talmente forte da staccare il rivestimento in pietra di un muro di fronte al piazzale. Come nello sbuffare di un vulcano, i lapilli hanno raggiunto abitazioni vicine dove gazebo e arredi esterni sono stati gravemente danneggiati. Nel corso dell'incendio in diverse occasioni si sono sentite forti esplosioni determinate dalla presenza di bombole per il gas e compressori utilizzati per la produzione delle pedane. Praticamente sciolti dal calore le coperture in ferro sotto cui erano conservati anche i macchinari di cui non resta che un cumulo di cenere. Si tratta del secondo incendio di queste proporzioni che ha colpito questo stesso piazzale il precedente e di circa otto anni fa.